Musica Anche Arezzo ha celebrato Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco. La manifestazione ha visto impegnati gli uomini del comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo nel saggio professionale e l'esposizione dei mezzi e delle attrezzature. Santa Barbara è un momento importantissimo per i Vigili del Fuoco perché c'è la dedizione dal punto di vista religioso ma soprattutto è un momento di riunione di tutti noi, di riflessione e un pensiero per il futuro. Un pensiero per i caduti, un pensiero per i familiari, insomma è un momento significativo per i Vigili del Fuoco. Un pensiero per il futuro rappresentato da questi ragazzi oggi qui presenti? Anche loro certo, i bambini, i giovani sono il futuro di tutti noi, diciamo della nazione sostanzialmente. Per noi rappresentano tanto, ma noi siamo lanciati al futuro per rincorrere la tecnologia, i nuovi rischi, insomma siamo sempre preparati. Ecco, è anche indubbiamente scenografica questa celebrazione, continua a piacere? Sì, per quel poco che ci possiamo permettere facciamo il massimo. Per di cosa avrebbe bisogno questo corpo? Avrebbe bisogno di risorse, risorse perché per poter andare avanti e poter in qualche maniera sostenere lo sforzo che i Vigili fanno, le risorse sono necessarie.